Ok raga, stavo facendo una live con un mio amico Ed ero su Twitch Dove parla bimbo bello? Io non stavo facendo una live perché in questo momento non me lo facevo avviare E guardate cosa è successo No, da dove? Ma vaffanculo, comando di merda Sempre del te Delirio Dai oh Curami Quando ho ucciso io, fra Ah no, non ce ne so Dove è il comando? Il mio amico Erdisco Iniziamo a sparare A caso È sulla torretta, fra No, scusa, vai Sulla torretta, fra Anche un cazzo È sulla torretta di ferro Fra, paura Che scemo Fa così apposta sto cogliendo Vabbè No, con la pistolina Comando, non ci credo Non ci credo Non ci credo Comando Alfa che fa una roba del genere È impossibile ragazzi Vabbè 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 ragazzi Ragazzi Bella Sì, sì, fra Bella questa Bella Vabbè 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 Vabbè